Buongiorno mondo, facciamo un piccolo resoconto dei costi della nostra vacanza in Toscana. Magari ti può tornare utile un esempio di costi per una vacanza di una famiglia come la nostra. Noi siamo due adulti di cui uno famelico, una bambina e un cagnolino. Ovviamente parliamo di esempi perché è normale che ogni famiglia e ogni persona abbia delle esigenze proprie, quindi i costi possono cambiare anche drasticamente. Ma a fine video apriremo una parentesi proprio su questo argomento. 12 giorni e 1300 chilometri fra le colline spettacolari della Toscana, un viaggio fantastico. Ma abbiamo toccato anche Umbria, Emilia Romagna e poi siamo rientrati in Veneto. Per un buon spritz. Ma quali sono state le nostre tappe? Casal Borsetti, Castiglione del Lago, Monte Pulciano, Monte Riggioni, Piombino, Pisa, Siena e Sottomarina e Chioggia. Il carburante ci ha costato 190 euro. Per 1300 chilometri percorsi tra salite, abbiamo trovato anche salite al 20%, siamo davvero contenti, siamo rimasti in linea con i consumi dei nostri camper. Sono circa 10 chilometri litro. La spesa di alimentari che poi abbiamo consumato in camper è stata di circa 350 euro, ma a noi piace provare i piatti del posto, i vini del posto, quindi sono spese anche particolari e si sa che le cose tipiche si fanno pagare. Ma come potevamo non provare i coglioni del mulo, nota bontà tipica di Norcia, o l'olio di Monte Pulciano, o i pici con la chiamina? La ristorazione ci è costata 350 euro. Il gelato, il bar, la cenetta di sushi, è giusto dare il nostro sostegno alle attività locali. Anche solo fermarsi per un caffè, un gelato, un frullato, che poi diventa anche un'ottima occasione per rubare i segreti del posto, perché così tu, entrando in confidenza un po' con il barista o con i camerieri, riesci a chiedere cosa c'è di bello da vedere in questo paese. E loro lo sanno. Le aree di sosta ci sono costate 64 euro, una media di 12 euro al giorno, considerando che ci siamo fermati per 5 giorni. Abbiamo approfittato, per dare una mano al nostro pannello, che si è comportato greggiamente, a ricaricare le batterie, caricare i nostri power bank, e due giorni li abbiamo sfruttati per poter utilizzare il nostro condizionatore. Ne parleremo in un video apposito, perché faceva veramente un caldo infernale. Il resto del tempo l'abbiamo passato in sosta libera, rispettando le regole e mantenendo quanto più possibile l'anonimato. 25 euro lavanderia a gettoni, ma fidatevi, bisogna usarla. Ci permette di portare via meno cose. È un'abitudine che abbiamo da quando viaggiavamo in moto, anche perché lì lo spazio è poco. E se inizi a portarti via all'armadio di casa, usiamo sempre lavaggio e asciugatura, così poi non abbiamo più problemi. Arriviamo in camper, pieghiamo le cose, le mettiamo nei nostri cassettini e siamo a posto. 14,50 euro invece ci ha costato l'autostrada. Abbiamo preferito fare le strade basse, così ci siamo potuti godere tutti i bellissimi paesaggi e ci siamo gustati anche i paesini che abbiamo passato. Quindi, tolti su pellettili, souvenir e ammennicoli vari che ognuno poi si fa i suoi conti, possiamo dire di aver speso 1000 euro per una vacanza di 12 giorni, Toscana, Umbria, Emilia-Romagna e Veneto. Direi niente male. Considera che puoi spendere tranquillamente meno o puoi tranquillamente spendere di più. La vacanza in camper, come tutte le altre, te la puoi e te la devi cucire addosso. Vuoi più comodità? Vai in un campeggio. Considera più o meno una media di 50 euro al giorno. Quindi ai 1000 euro, ad esempio, devi aggiungerci quasi 600 euro. Vuoi essere più wild? Mangi pasta e fagioli. Eviti come la peste bar e ristorante. E la tua spesa si dimezza. Ricorda che ti sto parlando di vacanze estive. Per quanto concerne invece l'inverno, devi sempre aggiungere e considerare i costi del riscaldamento. Gas, piuttosto che il gasolio per il vebasto, cinebasto, quello che hai, e il consumo delle batterie. Spero ti possa tornare utile a questo resoconto. A me sarebbe piaciuto tanto trovarne uno in rete. Anche se, ripeto, è solo un esempio di costo. Ognuno poi ha le sue esigenze e quindi cambiano i suoi costi. Ti consiglio di vedere anche il video che ha fatto Ale di Arcadia on the road, dove fa la stessa analisi delle sue vacanze in Sardegna. Può tornare veramente utile. Ciao mondo! A presto! A presto! A presto! A kick out! Finito! Finisce!